Ciao a tutti e bentornati su Football Manager 2018, bentornati alla nostra partita con gli Hamilton Wonders. In realtà questo è l'ultimo episodio, anche se proprio di questo non si può parlare, con gli Hamilton Wonders. La decisione era già presa anche prima che vincessimo la Champions Oceanica. Questo sarà l'ultimo episodio che giocheremo con gli Hamilton Wonders. Abbiamo raggiunto l'apice di quello che potevamo ottenere in Oceania, abbiamo vinto l'anno scorso in realtà il campionato neozelandese, quest'anno è andata decisamente meno bene, ma quest'anno abbiamo vinto, andatevi a vedere la puntata di ieri, la Champions Oceanica. Una cavalcata più o meno trionfale, abbiamo rischiato nella partita più difficile, la semifinale contro gli Eastern Wonders, vincendo in casa per 3 a 2 ai tempi supplementari. La partita contro Suva dopo il fortino dell'andata e la vittoria per 1 a 0 ritorna, è stato un 3 a 0 risolto dopo pochi 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 minuti. Insomma, un campionato comunque di tutto rispetto, un risultato di tutto rispetto, ma adesso è tempo di lasciare l'Oceania. Più di così non possiamo ottenere, allora dobbiamo spostarci. Le possibilità sono due, come potete vedere non sono ancora andato avanti, questo perché so già che ci saranno molte possibilità diverse, quindi questa volta non vi farò scegliere direttamente una squadra, anche perché poi potrebbe succedere come la volta scorsa, che poi non si raggiunga nulla, ma vi farò scegliere un continente, poi vedremo cosa ci proporrà. Le possibilità di continenti, dopo aver variamente valutato, sono in questo momento due. Andiamo a vedere intanto aggiungere i nuovi campionati, vediamo quali campionati sono attivi e vi dico anche perché, perché una volta che avremo scelto il continente ovviamente attiveremo molti altri campionati in quel continente. I continenti in questo momento attivi sono 3, 4 contando l'Europa che però non consideriamo perché sicuramente non abbiamo le possibilità di andare in Serie A. E sono il Sud America, che però vi scarto perché anche se l'Uruguay è temporaneamente disponibile, anche se è disponibile Brasile, in questo momento non siamo in grado di andare in una squadra sudamericana, non ne abbiamo le doti. Potremmo andare probabilmente in una squadra cilena, qualche squadra piccola, ma ovviamente il campionato in questo momento non è caricato, quindi non possiamo farlo. Possiamo andare però in Africa e allora le possibilità sono tra basso livello lo Zambia, alto livello Sud Africa, Marocco, basso livello il Senegal, alto livello l'Egitto, oppure in Asia. Quindi abbiamo Arabia Saudita, Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, anche se in realtà in Giappone non possiamo allenare perché come sapete il no fake non ha funzionato, quindi lo toglierò in realtà il Giappone dalla prossima volta, anzi lo faccio subito così non comparirà più. L'India, basso livello, ma pazienza è buon. Queste sono le possibilità, quindi vi lascio scegliere o, vuoi confermarle sì, o andiamo a giocare in Asia o andiamo a giocare in Africa. Ovviamente delle due quella che ci dà più possibilità di arricchirci è l'Asia. Quella dove giocano i team forse più prestigiosi potrebbe essere l'Africa, ovviamente se andiamo a giocare ad esempio in Egitto, un po' meno in Sud Africa. Delle due sicuramente quella dove partiremo più dal basso sarebbe l'Asia. Delle due quella dove partiremo, dovranno più possibilità di vincere in fretta, sarebbe l'Africa. Molto dipenderà anche da quali squadre saranno disponibili. Non so ancora nulla, a voi la scelta, Africa o Asia? Per qualche giorno non ci saranno episodi, quando torneremo faremo la nostra scelta. A presto, Africa o Asia? Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Grazie a tutti.